Allora, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. Alcuni di voi mi hanno chiesto di parlare della questione, sinceramente non volevo inizialmente, però ho deciso di prendere coraggio e di parlarne. Non è semplicissimo per me parlarne, però ho voluto comunque cogliere le occasioni per lasciare prima di tutto spazio a voi, per farmi sapere voi cosa ne pensate e soprattutto se volete lasciare un messaggio ad Alberto. Perché sì, come si sarà intuito sicuramente dal titolo, per chi non lo sapesse, Alberto Olivero, storico doppiatore di Junior o piccolo, lascia ovviamente il testimone al doppiaggio del personaggio. Piccolo disclaimer, prima che qualcuno inizi a pensare male fin da adesso, questo video non è in alcun modo monetizzato, potete fare tutte le verifiche che volete, ma non è monetizzato. Mi raccomando quindi, cercate di commentare nel massimo rispetto possibile all'interno dei commenti, poiché qui si sta parlando di una persona. Quindi, andiamo a vedere cos'è che effettivamente è successo negli ultimi giorni. Tramite Alberto Olivero c'è stato fatto recapitare un video a tutti noi in cui in pratica ci avvisa che lascerà il doppiaggio di piccolo. Ora, non credo di potervi girare in alcun modo in video, perché non ne ho la facoltà, però comunque se cercate lo trovate tranquillamente. Ora, nel video in questione, Alberto Olivero ci lascia una sorta di augurio dicendoci anche che abbiamo tutti un'aura potentissima, ma allo stesso tempo ci lascia anche un messaggio che sa tantissimo di addio. Per addio ovviamente mi riferisco al doppiaggio di piccolo. Le motivazioni dietro tutto ciò vengono attribuite a dei motivi personali. Il problema è che i motivi personali possono essere tante, e dico tante cose. Ci possono essere magari dei problemi familiari, ci possono essere dei problemi magari con la produzione, o magari a malincuore ci possono anche essere dei problemi di salute. In questo momento le informazioni che abbiamo riguardo il suo addio al doppiaggio di Junior sono veramente pochissime. Però purtroppo bisogna dire che le sensazioni che abbiamo sono tutt'altro che positive. Infatti personalmente dopo aver visto il video ho notato un Alberto molto, e dico molto, provato. E soprattutto mi riferisco sotto l'aspetto vocale. Purtroppo ciò che mi spaventa ancora di più è il fatto che lui comunque abbia iniziato a doppiare effettivamente Junior o piccolo in Dragon Ball Super. E che quindi da un certo punto in poi non lo doppierà più. Insomma, non voglio sbilanciarmi più di tanto riguardo cosa sia successo o cosa non sia successo, però ciò che mi auguro dal profondo del cuore è che veramente non ci siano problemi di salute dietro. Anche se purtroppo, vi ripeto, le sensazioni generali sono tutt'altre. Perciò comunque io direi che possiamo anche concludere qui questo discorso. Credetemi, non è assolutamente facile per me parlarne poiché è comunque una voce che ha accompagnato quasi tutta la mia infanzia. Poiché sì, secondo me possiamo anche mettere la voce di Alberto Olivero al pari probabilmente di quella di Paolo Torrisi. Se ci pensate, la nascita delle due voci all'interno della serie è stata praticamente contemporanea. Infatti nel momento in cui Goku passa alla maggior età e quindi diventa ragazzo e quindi c'è anche l'esordio di Paolo Torrisi al doppiaggio con Goku, abbiamo allo stesso tempo anche l'esordio di Alberto Olivero con il doppiaggio di Piccolo. E quindi dire addio ad un'altra voce storica fa tanto e dico tanto male. Perciò a questo punto vi ripeto, mi sentirei di concludere qui questo video e quindi di lasciare tutto in mano vostra. Scrivete qualsiasi cosa volete per Alberto, magari un messaggio, magari degli auguri, magari degli aneddoti. In modo che se mai un giorno dovesse imbattersi nei commenti di questo video, magari gli potremmo strappare anche un sorriso. Insomma, quindi a questo punto concludo soltanto dicendo che carissimo Alberto, tu ci hai insegnato che tutti noi abbiamo un'aura potentissima. E mai come in questi momenti, molto probabilmente, l'aura potentissima serve più a te che a noi. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa stia accadendo, scatena la tua aura e fa vedere assolutamente chi è il più forte. Quindi signori, detto questo, a me non resta altro che darvi appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.